Vi aspetto a tutti i weekend con JazzX, non mancate! Grazie a tutti! Occhi Verdi, Parfum! Grande Natale, doppio CD e doppia cassetta, EMI. Nuova Apollo Volkswagen. Non si finisce mai di scoprirla. Vuoi sfidare nuove emozioni? Super Nintendo! Vuoi picchiare duro per salvare il mondo con i Power Rangers? Super Nintendo! Vuoi fliparti in 3D con scenari da stile? Super Nintendo! Vuoi combattere con il potente Super Street Fighter 2? Super Nintendo! Vuoi vivere le avventure nelle savane con Simba il re leone? Super Nintendo! Power Rangers, Super Pinball, Super Street Fighter 2, il re leone! Le nuove emozioni di Super Nintendo! Da G! Tutto il resto è Game Over! Jam, nel prossimo numero, oltre il grunge, l'eredità di Kurt Cobain, le confessioni di Ivano Possati, il ritorno dei Led Zeppelin, Jam, in edicola dal 30 novembre.